Il nuovo Personal Banking è uno strumento semplice e personalizzabile. Partiamo dalle basi. Per personalizzare la tua home page, seleziona Personalizza la tua home page. In questa sezione puoi scegliere ordinare i contenuti della tua pagina iniziale e cambiarli in ogni momento. Se vuoi aggiungere la tua immagine profilo, carica la foto che preferisci oppure utilizza la fotocamera del tuo dispositivo. Vuoi cambiare l'immagine dello sfondo? Clicca su Cambia l'immagine di sfondo e scegli quella più adatta a te. Fai clic su Conferma per salvare la tua scelta. Da qui, puoi scegliere le operazioni che utilizzi più frequentemente, come effettuare un bonifico, ricaricare la tua carta, effettuare una ricarica telefonica e molto altro ancora. Per ordinare le informazioni che vuoi vedere direttamente in home page, trascina gli elementi utilizzando l'icona. Se ad esempio hai due o più carte di credito, potrai scegliere quante mostrarne in quale ordine. Una volta completata la personalizzazione, fai clic su Salva le modifiche. Dà adesso la tua home page e come desideri. Grazie al nuovo Personal Banking, ti basterà accedere alla rubrica per gestire le operazioni preferite di ogni contatto, in modo comodo e veloce. Per iniziare, seleziona un contatto o creane uno nuovo. Fai clic su Operazioni preferite. Per aggiungere una nuova operazione preferita, fai clic su Pulsante. Dal menu a Tendina, potrai visualizzare l'elenco delle operazioni disponibili. Fai clic su Conferma per procedere. Ora ti basta compilare i campi dedicati. Inserisci il nome con cui vuoi salvare l'operazione preferita, per esempio Affitto casa. Aggiungi i dati utili, come le coordinate bancarie o l'importo dell'operazione, e clicca su Conferma. La tua operazione preferita è ora registrata in rubrica e potrai utilizzarla con un clic tutte le volte che lo desideri. Scopri il nuovo Internet Banking di Bancasella. Pensato pensando a te. Pensato